Bene ragazzi siamo i Grananas e oggi è un giorno epocale Perché andiamo a registrare lo speciale 50k di un migo E' talmente epocale che lui si è dimenticato Comunque andiamo a registrare il 50k di un migo, lo speciale 50k Finalmente ce l'abbiamo fatta Sì, a fare il 50k siamo veramente molto felici Entusiasta, entusiasti, entusiastmante E infatti prima di cominciare il video Volevamo ringraziarvi a tutti quanti perché se ci state vedendo Volevo dire che siete probabilmente iscritti al nostro canale E quindi fate parte di quei 50k, dei primi 50k del canale di Grananas E voi nessuno potrà mai rincazzarvi perché siete grandi E quindi niente, adesso vi andiamo ad incontrare tutti Per modo di dire perché ovviamente non sarete tutti Però vi andiamo ad incontrare e vediamo l'ora di vedervi appunto E quindi subito andiamo al video Ciao Però non sentiamo Non te sento Puoi emettere l'audio? Microfono Vedo soltanto una che si muove O è Dio O è Dio o so i Grananas Sono due cose Non ho capito Non ho capito, infatti Sì, giusto Perchinect Poi comunque, essendo Natale Passato? Sì, sì Sì, sì, sì Prova, prova, check sound Io Lo so Comunque dai, visto che non sentiamo niente Ci sarà nel video perché sei la prima Sei stata la prima Non parlare, tanto non ti sento Ma scusa, ma se scrivi? Infatti scrivi Tanto guarda, verrai anche nel video Perché sei stata la prima Pensa, sei la prima Abbiamo appena cominciato Eccolo uno con il microfono Oh, c'è il microfono? Bella Bella Oh, sì, sì Dai Ma che testa avete tutti i film di Natale, sembra? Sì No Non si è fermato questa Crodino Twister Mamma mia Pappappam Bello Assumi a una cifra, carco Lo pensavo fossi idea Sei bloccato? No Ci stai? No, ci sta, ci sta Bello il disegnino Grande, bello Mi piace Fallo un po' Vedi, faccio rivedere Il microfono che non funge Grande Grandness 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 Grand disegno Bello Ma il microfono funziona? No, era per Diciamo Contorno Che è un altro computer? No, cambia computer Però per giocare League of Legends Oh Ciao Ma c'è il microfono? Forza Intense è in grande Ciao 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 Ma no Posso farlo proprio? Vai, vai Sì, solo a me però Perché lui è umanista Ammazza Ah, proprio Cioè Continuate così Siete grandi Grazie Ciao 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 Bello Ma chi è? Più di pai? Sei uguale a Più di pai? Fammi Facci un po' Più di pai Ecco, sei proprio così Capito? Più di pai Aia Grazie 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 Anche tu Ci spieghi come fai a avere tutti quegli iscritti? Lo sai che qua in Italia c'è qualcuno che ti copia i format? Vabbè dai Noi continuiamo a far giro Che penso ci siano ancora Due persone che ci cercano Quindi Che è successo? Siamo via Infarto Cioè io vi amo Questo è tipo Gervinio Sì Gervinio Coglino del Gervinio Facciamo uno screenshot col cuoricino che anche io non riesco a fare Sì Ok Ciao Bella zio Comunque sentiamo Puoi anche parlare Bella Bella Ti do un bacio No Tra voi due dai No Sì Guarda per quello c'è sta Youporn sezione gay Gay Quindi Oh 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 Siete voi seri? No 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 Stavo a cercare Granals Ti hai visti? Ti hai trovato? Sì ho aperto adesso Omegle Non c'è credo C***o Tutti dicono da l'ora che ci stanno cercando C'è sta gente che so a tre ore che sta su Omegle 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 Ok dove fa la foto a Boni Vai Boni Oh scusa Bene hai visto ho fatto proprio toccare le fuga Sbambam Hai visto? Calcala L'anno scorso siamo visti a RomaTube Al backstage Ah E quest'anno non c'è stavi? E quest'anno non c'è stavi Bravo Mazza Che posso fare Applausi proprio Bravo Sarebbe da schipparte solo questa cosa Sì infatti Beh però l'anno scorso ci stavo quindi Bravo Comunque sì dai A metà sei bravo Sei bra Ok Bravo Sei bravo Bravo Dai se beccamo la prossima Bella Bello Oh Sei bestemmia qua eh Agab Monte posso mettere il video? Bella È mezz'ora che sto cercando Quello prima invece ha acceso Mikko l'ha fatto Un grande cioè tipo riesce a parlare intanto scrive altre cose E' tipo Ciao come stai porco Io ci riesco Vedi ecco cosa mi viene E' russo C'è bella regà finalmente intanto stava scrive Si è beccamata la prossima Bello Ari è che è là Mo però sta con un'altra persona Sempre lei sulla traccia Oh Viece viece Faccio questo frista C'è vicino la mamma che la pista Basta I suoi fratelli Sono tutti belli Scartano le caramelle Spero che non ci stanno sentendo in realtà Ci stanno vedendo Spero che non ci stanno sentendo Benissimo Ora che abbiamo fatto la nostra bellissima figuraccia Visto abbiamo fatto la nostra figura Noi ce l'andiamo Ciao Ci abbiamo un freestyler Qui sulla traccia Dai l'andiamo Tutta la traccia Granana Dj Tappoles Yo T'apposto Finalmente Dai Finalmente pure noi siamo riusciti a trovate Cazzo 3 ore che stiamo qua Mamma mia Finnaggia T'apposto T'apposto Sì bene bene Dai T'apposto Sono un po' Vedevo pieno Fica dai Fa piacere Scusate Sono milanese No tranquillo E noi non ci abbiamo niente contro Milano No 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 veramente A parte l'Inter e Milan Io qui poi sono turisti Bravo 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 Ma ci sta un milanese Che è del Milan No Non ci sta Sono tutti dell'Inter Si sono convertiti tutti dopo il triplete Noi continuiamo Vediamo se riuscimmo a trovare un milanese del Milan Dai Dai Ok Va bene Dai Ciao 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 Grazie Ciao ciao Non ve menate Non ve menate Grazie una pizza Fate l'amore Non fate la guerra Ho appena detto Se me chiami granato Che curo Che fai? Sbuo No non ci vediamo No ragazzi Vai fallo Vai No Non adesso Cioè nel senso dopo Magari Di qualcosa di Non so Di Ciao Tutto a posto Di qualcosa di Di qualcosa di Si Qualcosa Cioè qual quadra Qualcosa di Si qualcosa di Qualcosa di È molto simpile Lui Cioè Proprio la simpatia Da tutti i pori Esce Si perché sono un ragazzo Semplice E Simpli Capito? Ecco chi devo combattere Tutti i giorni Oh 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 bello Che c'è sta là dietro Che è un bottone Che è Una base rap Qualcosa È Autodistruzione Sembra Spengi Accendiamo Che grossa Dalla testa tua Non trovavo quel bottone Sì no Infatti è un bel interruttore C'è un faro a casa Questa risalire Qua La Dorota Adesso Ho rotto qui diretta Basta T'ho sentito Perché mi avvicino Non sentiamo niente Però Prima si era sentito Qualcosa Sono loro Basta Quell'amore Un po' Sì no Sì ma Se tu non respiri Non ti devi mettere la mano davanti La bocca Quella non ci arriva Al 2015 Dopo passare Capodanno Mamma mia Oh ma è stracciata Il faro Lascia aperte Sto a sentire Io direi Schifapà Salute su Boni oh Calmatela Se sta a vedere Guarda Tranquillizza Tranquillizza Va bene Noi se ne andiamo Non vogliamo che mori Sinceramente Calcolate che voi Siete le prime E l'ultime Che troviamo su amico Perché se ne stiamo andando Esattamente Ok Quindi saluta 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 tutti quanti Ciao a tutti E dice quanti like Devono lasciare Devono lasciare 7000 like Eh Quanti 7000 like 8000 A post Giusto dai Ce stiamo Vabbè fai tutto te Dai grazie a tutti vai Vabbè dai grazie a tutti Iscrivetevi Lasciate un like Non so quanto Belli Bella Chiudirei te Ciao 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 E quindi ragazzi Questo era Omigol E l'abbiamo registrato Ce ne state veramente Bravi tutti quanti Abbiamo registrato Per circa due ore Adesso vediamo un po' Come sistemare Tutti i vari pezzetti L'altro ce l'ha fatta La ragazza Che avete visto prima Yes E quindi Noi ragazzi Diciamo tutto Come lei ha detto Arriviamo a 8k Like E niente Per questo video è tutto Per questo video è tutto E speriamo che il prossimo video Sarà lo speciale 100k Yo Bella Bella